Fin da ragazzo io ero un avventuriero, mi piaceva viaggiare, mi piaceva stare a contatto con la natura, internet mi ha impedito questo per un 50%, purtroppo ne ho bisogno per trovare lavoro, per esprimere la mia arte, però sotto altri punti di vista per me sicuramente è stato un qualcosa di molto valido, di molto utile, tranne per qualche mal di testa o mal di schiena dovuto allo stare seduto al computer o col capo basso sul telefonino, per il resto però sicuramente mi è stato utile anche per fare shopping, per avere degli scontri, per avere dei prezzi ripassati su beni secondari utili, quindi di conseguenza non si può che dire che internet sotto alcuni punti di vista ha migliorato in meglio la mia vita, sotto altri punti di vista credo invece l'abbia leggermente peggiorata, però poi ovviamente non ha anche le grosse volte internet, ma coloro che sviluppano dei servizi o delle meccaniche sul web che non sono propri al suo utilizzo, da che mondo è sempre esistito comunque chi impropriamente sviluppa e utilizza un sistema e così è successo anche col web, però da altri punti di vista ripeto ha portato dei grossi vantaggi a me come credo a tante persone, di conseguenza credo che sia stato un bene a un 50%, un male a un altro 50%, ciao!